Questa settimana ho prescritto a una paziente una terapia che si esegue a livello di puntura al gluteo e la paziente mi ha chiesto se tutte le regioni del gluteo fossero valide per eseguire la puntura. Ovviamente le ho spiegato che così non è, che c'è solo un quadrante dove si possono fare con estrema sicurezza e visto che la cosa non è così scontata oggi vi voglio spiegare qual è il quadrante dove vanno eseguite le punture a livello del gluteo. Andiamo a vedere. Ed eccoci qua. Come vedete il gluteo è divisibile in quattro quadranti, due superiori e due inferiori. Il quadrante dove si possono eseguire le iniezioni in assoluta sicurezza è quello in alto e posto verso l'esterno, quello che vedete sottolineato colorato in verde. Gli altri tre quadranti sono da evitare in quanto possono passare basi o come vedete nella raffregurazione un nervo, in particolar modo questo è il nervo sciatico che non deve entrare in contatto né con sostanze iniettabili né con un ago. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile lasciami un like su Facebook o su YouTube oppure visita il mio sito per maggiori informazioni. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!